Dalla PlayStation al bigliardino Matteo Renzi e Matteo Orfini continuano a giocarsi il futuro della capitale. Tra presidente del partito e segretario PD le posizioni restano distanti nonostante battute e sorrisi mostrati nella visita sorpresa del Premier alla festa dell'unità. Ma su un punto sembrano aver trovato l'intesa. Ignazio Marino deve dare un segnale e il sindaco di Roma è pronto a darlo con una nuova giunta dove non mancano sorprese. Come il nome del nuovo assessore Trasportin, sostituzione di Improta, si tratta di Stefano Esposito Torinese, conosciuto soprattutto per le sue posizioni contro i no-tav. Dalla giunta a Capitolina invece esce del tutto Sel che aveva garantito finora il suo sostegno esterno. La nuova amministrazione comunque verrà presentata nel primo pomeriggio. Allora si vedrà se ci saranno le risposte chieste da Renzi, impegnato più che mai anche nella battaglia per il taglio delle tasse. Non si spengono infatti le polemiche per le parole del commissario per la revisione della spesa pubblica Gutgeld che vede nella sanità lo spazio per una consistente riduzione fiscale. Ma il ministro della Sanità Lorenzin ribadisce non ci saranno tagli ma soltanto risparmi.